Buonasera Gimba Network, il mio nome è Gabore Play e sono qui quest'oggi per annunciarvi che purtroppo questa settimana non vedrà l'arrivo di nessun nuovo candidato per il Rookie Contest. Il motivo è semplice, lo staff ha ritenuto che i video inviatoci non rispettassero i requisiti minimi per diventare dei possibili candidati a diventare rookie. Teniamo a ricordarvi che fino al 30 aprile siete ancora in tempo per inviarci i vostri video e partecipare al Rookie Contest di questo mese. Rimanete aggiornati mettendo mi piace alla pagina Facebook di Gimba Network ed iscrivendovi al forum ufficiale. Per questo video è tutto, see you soon!